Benvenuti nel mondo degli orologi BRM. BRM è un marchio di orologi di lusso che nasce dalla passione per la Formula 1 e per il mondo delle corse automobilistiche. Fondata da Bernard Richards Manufatture e dall'azienda di British Racing Motors, BRM è stata una scuderia di Formula 1 inglese tra gli anni 50 e 80. Nel 2003, BRM ha lanciato il suo primo orologio, il cronografo automatico GP44. Da allora, il marchio si è distinto per l'attenzione maniacale ai dettagli e per la qualità artigianale dei suoi orologi, che vengono assemblati a mano. Ogni orologio BRM è un pezzo unico, che richiede oltre 20 fasi di lavoro per il completamento del quadrante. Inoltre, la chiusura del solo bracciale è composta da non meno di 12 parti, un numero che supera di gran lunga quello di altri produttori di orologi di lusso. Le viti utilizzate per la realizzazione degli orologi BRM richiedono quasi 12 volte più tempo di produzione rispetto a quelle utilizzate da altri marchi di orologi di lusso. Un altro aspetto importante nella produzione degli orologi BRM è l'utilizzo di materiali resistenti alle situazioni estreme, come ad esempio le gare di auto da corsa. Infatti gli orologi BRM sono realizzati principalmente in titanio e acciaio inossidabile, materiali che garantiscono la massima resistenza e durata nel tempo. BRM è un marchio che punta alla qualità, alla precisione e all'unicità dei suoi orologi. Per questo motivo, ogni orologio BRM è un pezzo unico, che viene assemblato a mano con la massima cura e attenzione ai dettagli. Inoltre, il marchio BRM è molto attento alla moda e alle tendenze del momento. Gli orologi BRM infatti, sono pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico attento e raffinato, che cerca un prodotto unico e di qualità. BRM è un marchio di orologi che rappresenta l'eccellenza nel mondo dell'orologeria di lusso. La cura e l'attenzione ai dettagli, la qualità artigianale e la scelta dei materiali di alta qualità, ne fanno un marchio di riferimento per tutti gli appassionati di orologi di lusso.